Sabato 14 e domenica 15 dicembre a partire dalle 16.30 a Torre Canne, notti magiche al faro, arte, cultura, musica, artigianato, spettacolo, gastronomia, danze popolari e mostra fotografica. Notti magiche al faro, sabato 14 e domenica 15 dicembre a partire dalle 16.30 e Babbo Natale, vien dal mare, domenica 15 dicembre alle ore 20, vi aspettiamo!